Salve a tutti e bentornati a Never Alone. L'ultima volta abbiamo terminato la puntata con lei che guardava il villaggio in fiamme. Vediamo un po' che cosa è successo. Alla prossima è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è. Oh cavolo. Si dice che con ogni raffica di vento la neve in forma di polvere venisse soffiata in ogni direzione. Alla prossima è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è. Alla prossima è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è. Alla prossima è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è. Ok. Ok. No. Wow. Ah cavolo. Ma... C'è anche lei può fare il super sa... ah forse con il vento. Ok. Ci provo. Sono i piccoli Javas. Sono anche qua Oh Wow Eeeh Oh Wow Ano 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 e che io non ero l'ora che pensiamo in te e non è che... se pareti l'ana. Ok, uomo gufo. Cercherò il tuo tamburo? Oh! Eccolo qua. Oh! Oh! Wow! Uccidi! No, no. Basta, battute su... Forse posso riuscire... Soffia sempre di là. No. Eeeeee! Cavolo, l'ho fatto cadere? Oh! Ah, ogni volta che trovo un gufo mi sblocca qualcosa. Che cosa... Che cosa sto spostando? Ci sono delle maschere all'interno. Ok. Ok. E' fino a qua tutto a posto. Oh! Oh! Oh, caolo! Scappa, scappa! Ah! Oh, 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 oh! Ah, tirane un'altra. Ma la devi inclinare ancora un po' di più. Ma ancora un pochino... Oh, 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 oh! No, forse così basta. E adesso? Eh, certo, adesso scappi. Ah, che stai assiccino. Ah, che stai assiccino. Ma che stai assiccino... E adesso c'era parte... E non ci stai assiccino. Ma non ci stai assiccino. C'è un po' di più? C'è un po' di più? No Qua Perfetto Chissà che ci deve fare l'uomo gufo con questo tamburo Sento anche un gufo da qualche parte Chissà Chissà Sì Che cosa mi ha dato Ma qui c'è la piccola gente E lui si dice Ma sta suonando con un osso O è la pipa con la quale fumava prima Che sicuramente sarà fatta addosso Ah mi ha dato le bollas Ok Che non mi servono per andare Ah già perché Ah no vabbè ma tu basta che Fai così Oh Oh cavolo Si è scantato Eh preso Ok Ok Uh Wow Sono potentissime Oh No 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 Fermati Ok Ah Non aspettiamo la raffiga di vento Oh Oh No È comparso Tardi Poverina Avete visto la volpe Com'era triste Ok Ok Via Ah Ah Cavolo Ah se è quella volpe Ah ok Credo di aver capito Ma Doe No, non ce l'ho No Dove è andata? Sto facendo un po' un macello Ok Perfetto Devo fare un po' di pratica Con queste bolas Ok, devo aspettare il vento Per raggiungere Vai Beh, fino a qua tutto bene Tolto quella caduta Oh cavolo Lancia le palle di fuoco Wow Dannazione Via, via, via Scappa, scappa Oh cavolo No Perché vuole Vieni che bolas Ma è un'azione Non de morde Ci credo stiamo su un iceberg Oh cavolo Eh, comunque l'uomo è proprio uguale all'incisione È identico Tranne il fatto che lancia le palle di fuoco Bene Per questo episodio ci fermiamo qui Grazie a tutti E ci vediamo presto con un'altra puntata di Never Alone Ciao 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 Ciao